Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo nel quarto episodio di devastiamo i giocatori e ragazzi stiamo già partendo in modo proprio incasinato, siamo con i membri della più salutate tutti tutti con i calarmati tranne alcuni che non ce l'hanno iniziamo a fare il casino c'è già gente che ci dà fastidio ovviamente eccolo guardate quello poi c'è la polizia che ci deve dare il fastidio sempre se no non è contenta e andiamo alla quella la ivan drago che prima ci ha fatto lo sapete voi che ci ha fatto, tommy attenzione ecco hanno ucciso tommy andiamo a prenderlo andiamo andiamo, dobbiamo vendita la maionese tu mi tu che vai con la macchina veloce valla a prendere ok ecco dai ragazzi dove spavonerà dove spavonerà e andiamo eccolo ragazzi quella la deve morire perché prima ci ha dato fastidio appena appena esce eccolo eccolo a fianco a fianco ce l'avete ok grandissimo federico perfetto polizia no scusate scusate ok chi è quello ragazzi chi sono questi no non è morto dove sta quello eccolo dai ragazzi il casino dobbiamo ammazzare più persone possibili ovviamente la polizia è compresa ovviamente il primo posto quella tu mi con la moto è il top dov'è 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 sopra no ma qua sopra è qua sopra grande federico dai tutti in autostrada vai no no aiuto che è successo mi sono impennato ragazzi vai 40 like per l'impennata eccolo 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 dove sta eccolo boom ragazzi volevo ringraziarvi per i 600 iscritti ovviamente siamo arrivati a 600 un'altra guardia incredibile oh no dai mi sono rinnovito di nuovo è qua dentro ok di qua è ecco dai 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 eccolo ma che casino è il delirio come al solito eccolo chi è chi c'è qui io ho portato c'è il deserto chi c'è qui bruciato bruciato e uschionato ragazzi il pilota si è sventato consegna cassa cancellata che cosa è sta è equittato ragazzi primo giocatore equittato ragazzi record abbiamo fatto quittare un giocatore il mio cararmato sta esplodendo ragazzi è un colpo e sono morto ragazzi ammazzate quello ammazzate quello vai 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 ragazzi c'è uno che sta arrivando ragazzi no c'è qualcuno che arriva scusa rani ma o eccolo eccolo morto zacca 32 888 muri carbonizzato no aiuto attenzione che arriva un altro attenzione eccolo 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 grandissimo oh no no ma quello prende ammazzate non ci posso credere uno col jet ragazzi oddio che prende più le armi che prendo io ragazzi dov'è quello ci spara i missili quale ponte bravissimo ok andiamo a perdere quello con la taglia lukin vai donna oddio che missile uuuh eccolo 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 sopra sopra sali sali lukin sali eh l'hanno preso fermati fermati eh guardate quello fuori ma guarda quello mamma mia ragazzi non sto contando tutte le uccisioni che stiamo facendo in questo video poi contatele voi sotto al video eccolo nooo grande fuori grande lukin ottimo ottimo andiamo a prendere zaka ok madonna madonna capriula gogo attenzione no 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 vai vai lukin questo lo prendi di punta lukin vai 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 nooo no dove è dove è vai Diego no 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 sei ucciso no mi mi ucciso non muore ragazzi non muore ragazzi non muore come non muore l'ho sparato tantissime volte non è morto lo vedrete nel video non vi preoccupate Mamma prendila dafine intorno no 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 vai ok l'uomo i ci siamo con Giannotti zaka è un grande bastardo ma ma ha fatto una tarte mamma mia ragazzi guardatelo muori ciاذi hai chiamato con dis かgo di g Guardian si peggio peggio Sì, questo episodio lo chiamiamo The Villaden Return. Vado, è il casino. Andiamo a prendere qualcun altro. Andiamo alla zaga, che prima mi ha ammazzato. Eccolo zaga. Federico, ti stimo per questa esplosione. Che è impressionante. Lei ha completamente fatto scomparire. Ehi, stanno tutti qua dentro, se mi stai accorti. Tutti qua dentro. Cioè, Federico è riuscito a rimanere col calarmato senza essere distrutto. Aiuto. Federico è un grande. Dummy, grandissimo. Ok. Vai. Vai. Ok. Chi è questo? C'è uno qua vicino. C'è uno qua. Grande rap Dani col calarmato. Dai, boom. Ah, ma sta sopra. Dove sta, ragazzi? Dove sta? Oh, è fuori dalle palle. Eccolo. Eccolo. Lo prende. Eh, Lucia, prendimi. L'ho preso. Io prendo, aspetta, vai. Madonna, l'ho preso. Ehi, Lucia, l'ho preso qua con il cerchino, hai visto? Eccolo. Eccolo. Dove sta? Eccolo sopra, bello sopra, bello sopra, bello sopra, bello sopra, bello sopra, bello sopra quello. Ancora sopra? Ah, l'ho visto, fermati, 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 fermati. Ah, peccato. Dove sta quello? Ecco, è lo uccide. Dove sta quello? Dove sta? Forse l'ho visto, aspetta. Ah, è solo a bru, credo, è solo a bru. Eh, sì, lo devo trovare, lo devo trovare, lo devo ammazzare. Forse l'ho visto. E non muore però, ragazzi. Vai. Attenzione, non muore. No. Oddio. Come fa a non morire? Ah, adesso è morto, adesso è morto, adesso è morto. Finalmente. Unito, vai. Quindi, arriviamo a 40 like in questo episodio, giusto ragazzi? Certo. Sì, ragazzi, è lì 50. Sì, dai, anche 50. La settimana prossima ci sarà l'altro episodio, chiaramente, sempre con i primi della più. Iscrivetevi al canale di Virgo Games e di Foxmaster, mi metterò i link in descrizione. Iscrivetevi al canale e condividete il video. Grazie mille per i 600 iscritti. Quindi, ragazzi, per questo episodio è tutto. Salutate tutti. Perfetto. Simux, grazie dell'esplosione. Quindi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.